Gesù dice, non crediate che io sia venuto ad abolire la legge o i profetti. Non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. Questa è una parola chiave per capire Gesù, dare compimento, per capire il suo messaggio. Ma che cosa significa questo dare compimento? Per spiegarla, il Signore comincia a dire che cosa non è compimento. La scrittura dice di non uccidere, ma questo per Gesù non basta, se poi si feriscono i fratelli con le parole. La scrittura dice di non commettere adulterio, ma ciò non basta se poi si vive un amore sporcato da doppiezze e falsità. La scrittura dice di non giurare in falso, ma non basta fare un solenne giuramento se poi si agisse con ipocrisia. Così non c'è compimento. Il messaggio chiaro, Dio ci ama per primo gratis, facendo il primo passo verso di noi senza che lo meritiamo. E allora noi non possiamo celebrare il suo amore senza fare a nostra volta il primo passo per riconciliarci con chi ci ha ferito. Così c'è compimento agli occhi di Dio. Altrimenti l'osservanza esterna puramente rituale è inutile. Io faccio finta di. In altre parole, Gesù ci fa capire che le norme religiose servono. Le norme religiose sono buone, ma sono l'inizio, solo l'inizio per dare loro complimento è necessario andare oltre la lettera e viverne il senso. Allora, fratelli e sorelle, possiamo chiederci, come vivo io la fede? È una questione di calcoli, di formalismi, oppure una storia d'amore con Dio? Grazie.